Nuova frenata per l'economia del Brasile, nel terzo trimestre il PIL si è contratto dell'1,7%, aggravando la recessione in cui si trova oggi il paese sudamericano. Una tegola sulla testa della presidente Dilma Rousseff, la cui popolarità è ai minimi storici a causa di un enorme scandalo legato alla corruzione. Le entrate fiscali continuano a calare, vanificando i tagli alla spesa con cui Brasilia cerca di consolidare i propri bilanci. In grande calo gli investimenti e soprattutto i consumi, con il tasso di disoccupazione ai massimi da sei anni e l'inflazione al 10%.